Un saluto e ben trovati alla voce delle istituzioni nel territorio. Oggi siamo nella sede di Antenna Anziani, incontriamo la Presidente Maria Agostina Campagna che saluto e ringrazio per l'ospitalità. Iniziamo subito parlando di dove siamo, questa sede, dove è situata e quali sono le attività che vengono svolte qui. La sede è una sede che ci è stata offerta e messa a disposizione dalla parrocchia di Loreto, infatti ci troviamo in via Loreto 13, ed è la sede storica di Antenna Anziani, cioè da quando è stata fondata l'associazione abbiamo questa sede. In questa sede ovviamente abbiamo tutto il nostro materiale, tutti i nostri oggetti, e svolgiamo delle attività come l'accoglienza dei nuovi soci, la preparazione di eventi, di cose particolari. Poi noi ci espandiamo molto sul territorio, ma la preparazione avviene qui, dove facciamo anche il consiglio direttivo e tutte quelle attività solite dell'associazione. Parliamo allora un po' di queste attività, cos'è Antenna Anziani e che attività fa invece nel territorio? Antenna Anziani è un'associazione nata nel 2005, che ha avuto il riconoscimento come Ollus nel settembre del 2005, ed è un'associazione il cui obiettivo primario all'inizio proprio era stato quello di rispondere alle esigenze, alle richieste delle persone anziane che vivevano a domicilio, portando loro compagnia, ascolto, eccetera. Progressivamente, e questo abbiamo fatto all'inizio facendo appelli per trovare volontari, che in realtà molti hanno subito aderito, progressivamente però l'associazione si è ampliata nelle sue attività e abbiamo iniziato oltre che a operare sul territorio, anche nella casa di riposo, ad organizzare eventi di tipo ricreativo e di tipo culturale e di tipo formativo, soprattutto per i nostri soci, quindi conferenze, incontri, eccetera, volti proprio a formare quei volontari nei loro rapporti con le persone anziane. Vediamo allora un po' l'attività di questi ultimi mesi, da quella regolare, come ad esempio l'ascolto a domicilio? Sì, allora, oltre alle solide attività, che è quella dell'ascolto a domicilio, accompagnamento, a fare visite mediche e quant'altro, è stata anche quella della distribuzione, che è molto importante, di buoni acquisto, perché la crisi si è fatta sentire soprattutto per le persone anziane, quindi dare dei buoni acquisto e poi andare e anche medicine, perché abbiamo una convenzione col Banco Farmaceutico, per cui raccogliamo medicine che poi distribuiamo, ma oltre a questo abbiamo fatto anche degli eventi per favorire soprattutto la socialità, lo stare insieme e quindi i primi di giugno abbiamo fatto un pranzo a Visome, presso la sede della Pantera Rosa, a cui erano presenti circa 70 persone e domenica all'otto ne abbiamo fatto un altro, a cui erano presenti addirittura 96 persone. Ma abbiamo approfittato di questo incontro dell'otto per, oltre al momento ricreativo e gastronomico, anche per fare una piccola attività formativa, per cui è stato presente l'assessore al sociale Marco Dal Ponte, che ha parlato di quel progetto del comune nel contrasto alle truffe di cui appunto spesso gli anziani sono oggetto e poi anche abbiamo parlato, la professoressa Spadaro che è nostra socia, ha parlato, inserendosi sempre in un progetto dell'Ulss, della prevenzione per le cadute in casa, che sono eventi molto dolorosi per le persone anziane e con conseguenze spesso assai negative. Quindi abbiamo fatto questi due momenti formativi e poi abbiamo, e approfitto per parlare della nostra prossima attività, abbiamo distribuito questi volantini, abbiamo parlato di questo piccolo progetto che per Belluno sarà il 14, sabato 14, in Piazza dei Martiri, ci sarà un banchetto per la vendita delle noci. Ora non è solo il nostro obiettivo ricavare delle somme, ma anche di sensibilizzare su questo tema. Infatti l'idea è nata insieme al dottor Grazioli circa un anno fa, perché dato che abbiamo sempre prestato attenzione a questa realtà, il 10 ottobre è la giornata mondiale della salute mentale, per cui abbiamo pensato di fare qualcosa proprio per sensibilizzare e per come dice lo slogan, cancella lo stigma, rompe il guscio, cancella lo stigma. Abbiamo trovato il logo e abbiamo dato inizio a questo piccolo progetto coinvolgendo LightSum, che è l'associazione che si occupa direttamente delle famiglie e delle persone con disagio psichico e che si è occupata della parte organizzativa, quindi di allestire i banchetti, che non sono ovviamente solo a Belluno, ma anche a Feltre, a Tai di Cadore e ad Agordo. Sono stati questi quattro incontri e l'anno scorso devo dire che le noci sono andate bruciate, proprio acquistate tutti. Speriamo che quest'anno anche qui a Belluno si ripeta la stessa cosa. Non è la prima volta che come associazione non vi occupate esclusivamente di anziani, è successo anche qualche tempo fa con un progetto dedicato ai giovani, ce ne parla? Esatto, perché il nostro statuto è uno statuto a 360 gradi che parla, non solo, ecco, dice proprio esattamente associazione per la promozione della domicilialità e per il sostegno alla persona anziana o in difficoltà. Quindi non esclude altre categorie di fragilità, altre persone. E noi abbiamo, ci siamo orientati verso proprio questo mondo ed in particolare appunto lo scorso anno, soprattutto dopo il Covid, dopo tutte le situazioni di disagio che si sono create, abbiamo deciso di puntare proprio sui giovani, perché i giovani sono stati molto colpiti e abbiamo fatto un convegno in cui c'è stato fatto da vari psichiatri, eccetera, detti ai lavori un quadro della situazione in realtà molto critica. Quest'anno abbiamo ipotizzato un nuovo convegno, speriamo di riuscire, che sarebbe dal 7 al 14 di marzo, perché è l'anniversario, i 100 anni della morte di Franco Basaglia, dello psichiatra, e quindi oltre che ricordare lui per le sue idee innovative, per la rottura che ha fatto rispetto al mondo psichiatrico precedente, ma di puntare proprio su alcuni obiettivi specifici, che in particolare, e questo anche un tema che poi riprenderemo per gli anziani, il dialogo con le persone, la corretta comunicazione, soprattutto quando un ragazzo molto giovane si scontra con questa malattia e l'accoglienza degli addetti ai lavori, a cominciare da lo psichiatra agli infermieri e quanto, è fondamentale, cioè un approccio positivo che consenta al ragazzo di non disperarsi, ma di sperare. E un'altra cosa è quella che vorremmo di avere una sede, qui a Belluno, una sede per accogliere questi ragazzi quando sono in queste difficoltà, perché andare nel reparto di psichiatria non è la cosa migliore, e quindi di creare un ambiente adatto a loro con tutte quelle che sono le loro esigenze, e potrebbe essere una cosa molto, molto importante. Come bisogna fare per ottenere questa sede? Ci avranno dei passaggi purtroppo quasi insormontabili? Esatto, certamente, ma che poi insormontabili in realtà non sarebbero, però ci sono tante difficoltà di tipo burocratico, economico suppongo, però abbiamo un esempio di una clinica di Firenze, la clinica Meyer, per cui ho anche scritto per avere delle informazioni, che hanno creato un reparto per i ragazzi e l'ambiente ovviamente in cui un ragazzo si trova è fondamentale, perché avere di fronte delle persone anziane già con una patologia ormai stabilizzata, quindi invece stare in un ambiente più adatto è sicuramente importantissimo per la soluzione dei loro problemi, perché noi crediamo che si possa guarire o si possa tenere molto bene sotto controllo la malattia e quindi fare una vita normale, insomma. Ha parlato di comunicazione con gli anziani, ci sarà una conferenza apposita, ci parla un po' di questo tema che potrebbe essere visto come un tema sottotraccia, uno dà per scontato che la comunicazione è normale, tra virgolette bisogna avere delle accortezze ogni tanto. Assolutamente, accortezze linguistiche, diciamo di linguaggio, proprio di approccio anche in questo caso con la persona anziana, che non va né trattata in modo eccessivamente amichevole, con pacche sulle spalle, eccetera, chiamandola nonno, nonna, eccetera, e bianche è in modo distaccato, quindi trovare l'approccio giusto, le parole giuste, perché le parole possono essere pietre, una parola detta in modo non corretto può veramente incidere profondamente sulla psicologia delle persone anziane, quindi un atteggiamento di cordialità, di accoglienza e anche di, come dire, di comprensione delle loro situazioni, dei loro problemi, quindi una comunicazione migliore possibile. C'è poi una collaborazione particolare con l'ULS? Sì, perché noi fin dall'inizio abbiamo partecipato ad un percorso di preparazione di un progetto dell'ULS denominato Verso l'Argento, in cui appunto che consiste in una serie di incontri che sono iniziati a maggio, poi c'è stata l'interruzione estiva, adesso sono ripresi da settembre e finiranno i primi di dicembre, ogni 15 giorni, di mercoledì, dalle 3 alle 5, presso la sala dell'ospedale, la sala conferenza dell'ospedale, ci sono questi incontri dedicati a una informazione per un corretto comportamento, per uno stile di vita che consenta di stare il meglio possibile, anche in età piuttosto avanzata, quindi si è parlato di alimentazione, di socialità, di movimento, di prevenzione, di tutti quelli che sono i temi importanti per questo obiettivo. Abbiamo parlato molto di giovani in questa intervista, ci sono dei ragazzi giovani che vi aiutano a fare tutte queste attività? Sì. E vogliamo anche contestualmente al mare lanciare un appello, in maggio ci sarà sempre bisogno di personale. Guarda, soprattutto i giovani, perché gli anziani adorano i ragazzi giovani, amano stare a contatto con loro, perché con gli anziani parlano sempre dei soliti acciacchi, problemi, mentre un ragazzo è veramente un'iniezione di ottimismo, di fiducia. Sì, noi abbiamo, soprattutto nel consiglio direttivo, per esempio, abbiamo una ragazza molto giovane, in gamba, bravissima, che collabora in modo molto attivo con la nostra associazione. Ma facciamo appello proprio ai giovani, se qualcuno volesse, questa è la nostra sede, quindi ci possiamo mettere d'accordo, potrei dare anche il mio numero di telefono, possono contattarmi, se hanno voglia di fare qualcosa per le persone anziane, che potrebbero essere i loro nonni, perché anche in passato in realtà noi abbiamo sempre cercato il dialogo tra le generazioni, facendo proprio delle mostre, per esempio a Liti, dove per far conoscere ai giovani le loro radici in qualche modo, perché senza tener conto delle radici non si va verso il futuro. E quindi per noi il dialogo con i giovani è molto importante, veramente. Come fare per contattarvi dunque? Allora, se qualcuno giovane, anche meno giovane, perché noi in genere, devo dire comunque l'età media è un po' avanzata, perché uno fa il volontario quando va magari in pensione, eccetera. Se invece abbiamo forze giovani, è molto ancora meglio. E il nostro telefono è 328 55 30 382. Perfetto, allora su questo appello direi che concludiamo la nostra intervista, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Io ringrazio ancora Maria Agostina Campagna per la chiacchierata e per l'ospitalità. Grazie a voi, grazie a voi e a tutti quelli che ci ascoltano. Speriamo che l'appello sia raccolto. Grazie mille a voi per averci seguito. Arrivederci.